Io darei la parola al professore Paolo Maria Rossini che è ordinario di Neurologia alla Cattolica e farà un intervento appunto sulla plasticità cerebrale. Buongiorno, grazie al nostro moderatore, grazie agli organizzatori e al professor Niggi per questa opportunità. E premetto che mi sento un po' un marziano nel senso che spero che quello che verrò a dirvi vi interessi prima di tutto e sia utile alla finalità di questa riunione. Allora, voi lavorate sostanzialmente, noi tutti lavoriamo perché anch'io sono un docente, su questa frontiera, cioè sulla frontiera dei punti di contatto tra gli elementi di base del nostro cervello che sono i neuroni. E vorrei introdurre un concetto da subito nel dire che è una frontiera estremamente plastica, estremamente dinamica. Normalmente noi nel ricevere un impulso, nel apprendere qualche cosa, produciamo una serie di sostanze che permettono ai nostri neuroni, alle reti che si formano, di colloquiare. Se questa cosa viene ripetuta più volte, si amplia il livello di contatto, quindi si amplia il fronte tra cui questi due neuroni colloquiano tra di loro. E se viene ripetuta ulteriormente, e per cui finisco con la depositiva ripetita a Juventi, i latini avevano capito tutto già all'epoca, si emettono addirittura nuove sinapsi, si formano nuove connessioni e nuove reti. Di fatto le neuroscienze moderne interpretano il modello del nostro cervello come uno straordinario contenitore di reti neurali, le quali sono però dinamicamente connesse tra di loro. In altre parole, possiamo identificare cinque grosse reti che sottendono funzioni quali il linguaggio, funzioni quali la scrittura e la lettura, funzioni quali l'attività motoria e sensitiva, il collegamento con il mondo esterno ed interno attraverso i nostri sensi. Ma ognuna di questi nodi che forma le reti di fatto può contribuire alle attività di tutte le reti in modo dinamico. E non è sorprendente pensare che l'olfatto, la vista partecipino ai processi di memorizzazione, che la percezione della musica partecipi ai processi anche di movimento e quant'altro. Quindi il sistema nervoso non è immutabile. Quando io ho studiato a metà degli anni 70, mi insegnavano che finita una certa età, che è chiamata l'epoca d'oro, il nostro cervello era una cassettiera con una serie di cassetti e di moduli che quelli erano. Non è assolutamente così. Si riorganizza continuativamente. Si riorganizza anche alla mia età, e vedo che è un'età condivisa da alcuni dei presenti qui in aula, quindi manteniamo una certa capacità plastica per tutta la vita. E questo ci permette sostanzialmente sempre di essere in grado di apprendere. Ciò non toglie che gli anni su cui intervenite voi, interveniamo anche noi con la carriera universitaria, tra i 5 e i 20 anni sono quelli fondamentali per lo sviluppo di due grosse parti del nostro cervello, che è la sostanza grigia e lo spessore della corteccia. E questo è un elemento importante che viene rivalutato ultimamente. Lo spessore della corteccia significa quante reti, quanti neuroni sono dedicati a quella funzione in quella certa parte del cervello. e lo sviluppo delle connessioni. Quindi noi possiamo avere tante centraline, ma se poi ci mancano le autostrade e le ferrovie che le collegano, sono centraline isolate. Invece un cervello maturo, ricco, efficiente, è dotato di molte centraline, ma è dotato di altrettante connessioni che permettono a queste centraline di lavorare in modo coordinato. Ora, la plasticità del cervello diminuisce con l'età, ma diminuisce in modo individuale sostanzialmente. Quindi ci sono molti soggetti in cui questa diminuzione è estremamente lenta, quasi impercettibile, ed altri in cui è molto rapida. Ci sono evidenze sempre più forti che ci dicono che quanto più si lavora nella fase iniziale sulla creare una rete e un sistema di reti forte, quindi nei primi 20 anni di vita, tanto più poi questa dote ci torna utile per il resto della vita in termini di plasticità, di apprendimento e anche di mantenimento di certe funzioni. Non è un caso che noi oggi, i nostri pazienti, quando ci chiedono come facciamo ad evitare l'Alzheimer, la prima risposta è pregando, la seconda è facendo due principali attività come stili di vita, attività fisica ed attività cognitiva. E ci ritorneremo brevemente dopo. È un dato di fatto che quando si invecchia il cervello perde volume. Dovunque c'è qui del nero vuol dire che c'è liquido, c'è acqua, non c'è più volume cerebrale, dove c'è bianco c'è cervello. Questo è un cervello giovane e questo è un cervello anziano. E soprattutto richiamo la vostra attenzione su queste due noccioline, che sono gli ipocampi, sono due centraline fondamentali per i processi di memoria. Piccolissime, ma sono due hardware strepitosi. Naturalmente non lavorano da soli, lavorano in congiunzione con altri centri, ma vedete che sul cervello di 87 anni c'è tanto nero, laddove invece su quello di 27 anni c'è tanto bianco. Quindi queste due strutture tendono a regredire e c'è poco da fare, almeno allo stato attuale. Quindi quando mi si chiede, ma perché non mi ricordo più i nomi, stai tranquillo perché questo fa parte della fisiologia della vita. Ma il cervello anziano, quando è abbastanza plastico, rimane performante per tantissimo tempo. E questa è una fotografia che io trovo molto convincente. Se io chiedo a una persona, mentre sta dentro una macchina strana che si chiama risonanza magnetica funzionale, di fare un movimento banalissimo, tirare su rapidamente, il più rapidamente possibile, il suo dito indice della mano destra. E le zolle colorate sono i punti che si attivano per fare questa cosa. Sono giallorosse perché io sono romanista. Per me il cervello sano è giallorosso, e quello malato è biancazzurro. Scusate la battuta, ma anche un occhio non allenato può vedere che a parità di prestazione il cervello giovane attiva molto meno cervello rispetto al cervello anziano. Quindi la stessa prestazione viene mantenuta, però a spese di un coinvolgimento di reti molto più complesse. Il cervello anziano ha bisogno di una maggiore complessità per mantenere la stessa efficienza. Il cervello giovane riesce a farlo spendendo di meno. Ed è per questo che, io ricordo sempre, quando ero giovane ascoltavo il calcio minuto per minuto, facevi i compiti e guardavo magari anche un film in televisione. Le tre cose riuscivo a farle abbastanza bene. Adesso è impossibile. Il cervello anziano deve fare una cosa bene, ma per volta. Non è in grado di separare. Altro esempio, questo viene dalla sperimentazione degli anni Ottanta, ma ci ha convinto che anche in l'anno della vita il cervello è plastico. Se viene a mancare un dito della mano, queste sono, sulla sinistra sono le cinque dita, sulla destra sono la loro rappresentazione sensitiva, sulla zolla di neuroni, sulla zona di cervello che contiene la rappresentazione sensitiva delle dita. D significa per digit, quindi dito uno fino al dito cinque. Se viene tolto un dito, per esempio il terzo, voi vedete che, come accade su tanti posti di lavoro, inclusa l'università, lo spazio lasciato vuoto viene occupato subito dalle due dita vicine che si ampliano in rappresentazione. Al contrario, se io stimolo in modo continuativo e ripetuto due dita soli, queste due si allargano, tendono a rappresentarsi sempre di più a spese delle altre dita. E questo rimane per tutta la vita. Questo sembra complicato, ma non lo è. Ogni quadratino rappresenta la zona di cervello che controlla i muscoli della mano, va bene? E untrained significa una mano che non è allenata, in particolare non suona il pianoforte, e train è la mano dello stesso seggetto che sta facendo un esercizio a pianoforte un giorno dopo l'altro, dal lunedì al venerdì, per settimane consecutive. Allora, la cosa divertente è che all'inizio le due mani hanno più o meno una mappatura che è identica, ma dopo un po' di giorni la asimmetria, la differenza è notevolissima. Al sesto giorno è ancora più notevole. Se questa è seguita settimana per settimana, la mano non allenata più o meno rimane imbutabile, quella allenata è sempre più grande. Ma se questa cosa si prolunga, se è ripetita a Juvent, a un certo punto quest'elemento comincia a ridursi. La mano allenata diventa sempre meno rappresentata, e questo avviene perché quella cosa è stata totalmente appresa, viene depositata in un deposito automatico, il soggetto ricorderà per tutta la vita come si suona quel pezzo e non ha più bisogno di mantenere quella mappa così importante che altrimenti occuperebbe una zolla di cervello che va dedicata ad altri tipi di apprendimento. Quindi l'importanza di proseguire fino a che quella cosa che voi avete appreso viene depositata in un deposito definitivo e rimarrà una vostra dote che non perderete più per il resto della vostra vita. Da quanti di voi si ricordano tantissime poesie o tantissime nozioni apprese nelle primissimi anni di scuola e sono rimaste come una vostra dote in peritura? Quelle non ve le leverà mai nessuno. Allora, grazie alla nostra plasticità noi possiamo, mantenendo le nostre caratteristiche individuali, perché chiaramente non cambiamo come temperamento, come individui, eccetera, però possiamo adattarci ed è questo che ci permette di essere vincenti stranamente in questo mondo e in questo quadro ecologico così strano, essere vincenti ai cambiamenti dell'ambiente, essere vincenti ai cambiamenti dei rapporti sociali, essere vincenti all'interno di comunità che cambiano come caratteristiche. Ma l'apprendimento è un processo che riguarda l'esperienza, l'addestramento, che deve essere prolungato con caratteristiche adatte perché diventi una dote definitiva e vada in quel famoso deposito. Altrimenti viene dimenticato, la nostra memoria è ridotta, noi diciamo sempre siamo un computer, manco per niente, la memoria, la capacità di memoria del nostro cervello è infinitesimale rispetto a quella dei computer che oggi utilizziamo. Abbiamo bisogno di cancellare moltissime cose perché altrimenti non c'è spazio per nuove nozioni, per nuovi apprendimenti e quindi è selettiva e quindi noi dobbiamo imparare in modo definitivo e diciamo depositare in modo definitivo quelle cose che veramente poi ci serviranno e gioco forza dobbiamo dimenticare cose che ci serviranno di meno. L'importanza dell'attività fisica è stata citata un attimo prima e questo è un qualcosa che le scuole, credo, e i sistemi di educazione anglosassoni hanno imparato da tempo. Non è banale, il cervello in un corpo che fa anche movimento viene rifornito di un nutrimento, di un sangue ossigenato che contiene tutta una serie di endorfine, di sostanze, di fattori di accrescimento che sono fondamentali anche per una buona funzione cognitiva. Questa è solo una fotografia sempre giallorossa dove funziona meglio che lo stessi 20 studenti che fanno lo stesso test dopo essere stati fermi per un lungo periodo dopo aver fatto una semplice camminata di 20 minuti si ha un'attivazione cerebrale decisamente superiore e naturalmente un'efficienza decisamente superiore. sempre per rimanere su questo tema anche i semplici movimenti e anche i movimenti più complessi attivano delle reti molto articolate. Questi sono cervelli visti in tre tipi di movimenti di complessità crescente un semplice grasping cioè un afferramento banale del pugno il soggetto che deve invece seguire una linea complessa descrivendola con una penna e qui un test in cui si debbono infilare degli oggetti molto piccoli all'interno dei rispettivi buchi e poi vedete che ciascuno di questi tre movimenti pur attivando alcune aree che sono le stesse ma semplicemente più allargate poi ne coinvolgono complessivamente anche delle altre che vanno a finire sul cervelletto sulla zona visiva e quant'altro. Quindi noi abbiamo una elasticità e una dinamicità straordinaria che ci permette di all'interno di un silos di una caratteristica simile che è quella del movimento di riuscire a compiere cose semplici cose intermedie e cose complessissime. Queste sono le rappresentazioni delle aree motorie e nello stesso gruppo di soggetti nella fattispecie uno può pensare che i boxer usano poco il cervello invece lo usano per la parte legata alle mani ovviamente magari tutto il resto è poco utilizzato però il cervello per la parte legata alle mani in funzione degli anni in cui questi soggetti si allenano vede una rappresentazione sempre più ampia sempre più intensa addirittura con il coinvolgimento di entrambi gli emisferi. Le arti musicali le arti musicali sono un altro per noi neuroscienziati straordinario modello ma tutto questo che vi dico voi potete tranquillamente traslarlo su qualsiasi tipo di apprendimento l'apprendimento motorio o l'apprendimento cognitivo di altro tipo le caratteristiche diciamo neurofisiologiche sono assolutamente analoghe il soggetto che suona il violino nei primi anni attiva mezzo cervello perché ha bisogno di mille informazioni e di mille sistemi di controllo il cervello di un violinista professionista guardate come è più concentrato attiva le centraline giuste in termini fisiologici significa che qui il rumore di fondo è molto alto qui è molto basso e quindi il sistema è estremamente più efficiente quanto più uno diventa bravo a fare una cosa tanto più è selettivo nell'attivare soltanto le reti giuste per i tempi giusti per raggiungere l'obiettivo che è necessario naturalmente la parte più attiva è sull'emisfero di destra perché voi sapete che la mano che articola sul violino è la mano sinistra l'altra semplicemente semplicemente con tutte le difficoltà di questo mondo muove l'archetto e l'altra cosa divertente è che voi vi trascinate nell'esplorare e nel contattare il mondo vi trascinate le vostre skills sembra naturale ma fotografarlo è abbastanza affascinante allora se voi fate ascoltare un pezzo di musica a dei musicisti che la suonano che la sanno a memoria che quindi conoscono perfettamente il pezzo o a un gruppo di persone che non sono musicisti voi vedrete che i musicisti che sono allenati non solo attivano come anche gli altri le aree acustiche perché stanno ascoltando il pezzo di musica ma attivano tutti i settori che controllano i movimenti della mano come se la stessero suonando è incredibile ma è così allora io termino sperando di avervi portato qualche cosa di utile ricordando che i latini avevano già scoperto quello che Eric Candela che ha descritto il meccanismo di rinforzo sinaptico prendendoci il Nobel sulla fine degli anni 90 ha scoperto tanti tanti anni dopo voi oggi sapete forse di più rispetto a prima che agite con la vostra attività su queste reti neurali che fate formare quando siete efficienti nel vostro lavoro e il rapporto con il vostro discente è buono delle reti e delle plasticità buone sappiate che si formano anche delle plasticità aberranti quelle cattive che impediscono poi le acquisizioni o che formano dei comportamenti alterati per cui nel vostro lavoro state svolgendo un'attività veramente di un'importanza straordinaria grazie 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 grazie